buonasera a tutti ragazzi dal vostro carta al curva nord allora udinese inter 0 a 0 siamo dei polli siamo dei in meriti polli adesso che ho visto pure che l'atalanta va a vincere 2 a 0 3 a 0 quanto cazzo ha vinto credo 2 a 0 noi che potevamo approfittare di questa cazzo di situazione favorevole papapammate noi ogni volta con l'udinese è così noi sempre così sempre siamo stati dei polli dei polli oggi veramente dei polli lukaku oggi non si è visto non si è visto lukaku oggi non so che cazzo aveva lukaku non si è visto non si è capito lautaro martinez che dopo il gol annullato appunto che ci stava fuori gioco poi arrivato il secondo tiro in bella parata di musso che culo ci ha avuto musso a parà quel cazzo di tiro poi ragazzi poca roba per un parlato di maresca che è un gran figlio di puttana perché un gran figlio di puttana con l'espulsione di conte vabbè ma quello chapeau non me ne può fregare di meno non me ne va a fregare di meno però ragazzi dai pareggiare così in questa maniera oggi poi è entrato perisic ok che è stato servito poco ma a che cazzo serve ancora perisic come fai andando in giro ancora con ivan perisic come si fanno in giro con ivan perisic come cazzo si fa sanchez quando entrato non si è illuminato partita veramente di merda partita di merda perché tu questa partita qua la dovevi portare a casa dovevi la dovevi vincere tu questa partita dovevi obbligatoriamente vincere tu hai lasciato praticamente con una ghiotta occasione dove la palampa a minano è andata a vincere tu sei stata una squadra di polli 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 perché questo quello che sei stato una squadra di polli oggi ecco che cazzo avevi un'occasione così ghiotta così succulente era proprio buona era saporita sta cazzo di partita che te se la siamo pesa nel arbuto dal culo e dai e dai facciamo i bravi cazzo il centrocampo oggi non ho visto oggi non ho visto manco un aiuto del centrocampo barella poi sensi a chi mi di cazzo non tira a chi mi che non tira chi mi tira qualche volta pure tu porca puttana osa un pochettino osa young a me non è che me faccia un pazzo perché a me young ragazzi non è che sto grande fenomeno a me si fa esperienza perché a di addio ha dato tanto anche al manchester united ma ragazzi ma lasciamo sta non è quello importante qui dovevi portarla a casa oggi oggi dovevi oggi deve fare tre punti c'avevi una ghiotta occasione che quell'altri dall'altra parte stavano appare a perdere e dai e su e namo e quando se scherza se scherza la partita rimarda così buttata nel cesso hai buttato nel cesso una vittoria che potevi fare facile facile non è che questi c'hanno sti grandi fenomeni c'hanno ancora ma non giro con lasagna e cannelloni dai io su questi hanno giocato pure mercoledì erano pure più stanchi da noi e noi non siamo riusciti a portarla a casa ma stiamo a scherzare o dimmo davvero che sabato di sera di merda porca puttana per vedere una squadra dei polli una squadra dei polli che vi dico che c'è più da di d'ecco si dite nuovo voi perché voi non so che parte da destra voi ho visto la partita dei polli voi adesso vate qui nei gommetti mi dite che cosa ne pensate comunque milan campione di inverno è giusto l'inverno atto tra pochetto risprofondano proprio all'inferno infatti spero spero almeno perché non credo che tanto bene che può ma cominciò spero che cominciano a scrivere quella ma matti dice il derby eh ma vediamo di portare a casa almeno il derby di milano eh vediamo di portare la casa ma fate in cassa intanto pescara oggi che ha fatto pescara si a pescara 2 a 0 dalla dell'inverno di dara